Nell'ambito delle ricerche che conduciamo per l'ecomuseo del Freidano, particolare riguardo a noi lo abbiamo sempre dedicato ai mulini e in particolare a quegli impianti molitori che ebbero uno sviluppo in senso industriale a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, grazie anche all'intervento di Camillo Benso Conte di Cavour. Nello studio di questi mulini ci è sorta la possibilità di conoscere il molino Peila di Valperga di frazione Gallenca e grazie alla collaborazione con gli attuali proprietari abbiamo avuto la possibilità di ricostruire in gran parte la sua storia proprio per la documentazione che l'attuale proprietà ancora oggi conserva. Non abbiamo potuto decifrare la data esatta della sua costruzione, tuttavia si sa che si trattava di un mulino nuovo, che proprio come il mulino nuovo di Settimo Torinese, venne costruito dopo il 1851 in seguito all'abolizione della legge sulle banalità, cioè l'abolizione dei diritti feudali per la costruzione e la gestione dei mulini. L'articolo indaga quindi la ricostruzione storica delle vicende legate alla famiglia e l'evoluzione del nucleo del mulino Peila, si sofferma anche sulla roggia di Fabria, che è il canale motore che dà la forza ancora oggi al mulino. E si sofferma poi anche all'importante intervento delle manifatture di Cournier appunto lungo il canale di Fabria. Per noi dell'ecomuseo indagare la storia del mulino Peila è stato particolarmente importante perché ci ha permesso di allargare lo sguardo anche al canavese e quindi creare un percorso conoscitivo da Settimo al canavese indagando i mulini, ma anche aprendo l'approfondimento su un altro tipo di impianto che sono le fornaci a cui vorremmo poi dedicare un prossimo articolo.